Però cambieranno la mappa salva Perché ora la faranno più piccola L'hanno già fatta Sarà più piccola A 60 giocatori Invece di 100 E quindi questi sono gli ultimi game con sta mappa qua Capito? Quindi perché non approfittarne per portare qualche game Visto che sappiamo che cambierà sicuramente Che hanno fatto il PTS su Steam la scorsa settimana Per una settimana filata Cioè per tutta la settimana scorsa hanno fatto il PTS E ho visto la nuova mappa Fighissima, bellissima Metteranno delle robe fuori di testa Tipo le armi antiche Mamma mia Di bastante Lei dove va con il cavallo? Magari non dovrei missarlo così Tre colpi Ma Fortnite è ancora top Di questo gioco Però devi sapere salva Forse Non l'ho ripetuto a best else Che questo è il mio battle royale preferito Tu mi dirai Marie ma perché non lo porti in live? Perché i numeri sono molto bassi Ma non solo in Italia Ma proprio all'estero Dappertutto Cioè Fortnite è troppo superiore a sto gioco Capito? In tutto e per tutto A livello dei contenuti A livello di Questa è diciamo Un piccolo battle royale Capito? Che hanno ripreso agosto scorso A lavorarci sopra Che io ci gioco off streaming Tu mi dirai Marie ma giochi No Gioco anche a questo giochetto Off streaming Questo giochetto è bello Oltre per dire overwatch Realm royale Tempo è riservato anche a realm A dead by delete volevo dire Oltre overwatch A dead by delete Anche il tempo ha Che funziona bene A parte i bug Ma funziona bene E divertente Funziona bene Questo è il migliore Regate tutti Allora Rarità Facciamo così Squagliamo tutto E andiamo in forge Questo sarò stato uno dei primi A giocarci su playstation Regà me lo ricordo Bellissimo Ah e questo Ai 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 C'ha un'arma più forte Questo è il problema Stealth Siamo un po' dei topastri In questo momento Ciao ferruccio Benvenuto Let's go Vieni qua pollo Ok Un ilmo Un ilmo Ok Let's go In chino Ah ho finito Ok Ho finito le mozioni Facciamo così Bella è divertente Sprazzi Regà Real Ma è divertente Ci facciamo L'arma buona Lancia granate Ci facciamo Quella di movimento Per l'ingegnere Un'armatura migliore Abbiamo finito gli shards Credo Possiamo rompere qualcosa qua Ah ce ne aveva No ce ne aveva pochissimi Ci ha trollato così Mamma mia Mmm Ci mancavano dieci shards Per migliorare L'SMG Aspetta che lì c'è qualcosa Là sopra C'era C'era già questo in realtà Regà Però lì ce lo darà viola Adesso Possiamo fare Questo lo togliamo Questo lo facciamo così Qua togliamo tutto Abbiamo fatto pure una quest Sì ma qua si vinceva pure Abbastanza easy Dai si si è vero Si vinceva abbastanza easy Però si becchi Tra i harder Su sto gioco Non te fanno respirare Salva Sai Non ti fanno respirare Poi questi Ingegnere L'hanno messa di recente Una volta Era Era già contenuta Nel gioco base Poi hanno fatto Un macello Con gli aggiornamenti Sì ma hanno rimesso Un bel po' di roba Facciamo così Ah io mi sa Che si è sfaciolato Il loadout Perché mi dà La pozione Quella della cura Forse Torretta Ma forse qua Fa caso In realtà forse Fa caso Tutto A me La cosa È fatto che Ci stanno le abilità Ste cose Mi piace Cioè Vedi C'hai tipo Tre abilità Una di movimento Una d'attacco De difesa Oppure Di movimento E poi Mette pure là C'hai due armi Proiettili infiniti Come su Overwatch È Tipo qua Torretta Alla Tobjorn Invece di questo Ma abbiamo La torretta Alla Tobjorn E la piazziamo per terra E fa tutti i danni Automatici Vedete Tutte queste cose Sono carine Forse anche per quello Mi piace Overwatch Perché comunque Sto gioco È Probabilmente Ambientato Nello stesso universo Dei Paladins E sapete Paladins È molto Si rifà molto Overwatch Se rifanno a vicenda Come giochi Poi c'è un cavallo Regà Qua c'è il cavallo Mamma mia Caro vecchio cavallo Allora In realtà Qua sono 50 colpi Questo è meglio Qua ci stanno Il loot Eccolo qua Così Questo è The gatekeeper Regà Squaglia Però Ci mette una cifra È tipo Un mitraione Pesante Rester Ti do queste informazioni Se sei interessato Per niente Che è successo La community Di Realm Royale Nonostante IREX Studios Avesse detto A chiare lettere Cose del tipo Il gioco Ormai non lo svilupperemo più È finito lo sviluppo del gioco Lasceremo i server online Ha continuato a giocare al gioco E la gente si lamentava Chiedendo su Twitter Spesso E volentieri Sviluppate sto gioco Sviluppate Sviluppate È bellissimo Di qua di là IREX Si è rotta talmente tanto Di tutti sti commenti Perché Twitter era invasa Fino a qualche anno fa Che In marzo scorso Quindi te parlo di marzo 2022 Hanno chiamato Thor Che era uno degli streamer Di Realm Royale Più grandi Dicendogli Guarda abbiamo aperto Le selezioni Per il team di sviluppo Se vuoi Fai la candidatura Lui ha fatto la candidatura Lo hanno preso E fondamentalmente Ad agosto 2022 Quindi quasi un anno fa Hanno lanciato Realm Royale Riforge Che hanno riforgiato Tutto Realm Royale Vedi c'è sta l'armatura L'elmo La corazza I guantò I guantò Insomma I Quello che copre I avambrani Cioè diciamo Gli scarponi Vedi non so se Hanno rimesso l'ingegnere Che questa classe qui Che c'era all'inizio Non su console Già non c'era più C'era all'inizio del gioco Vedi questo è l'ingegnere Adesso ce ne stanno 5 C'è l'ingegnere Il cacciatore Il mago Il guerriero E adesso il gioco in sviluppo Tant'è vero Che settimana prossima Cambieranno la mappa Settimana Grazie intanto per il follow Settimana prossima La mappa verrà cambiata Cioè sarà una mappa nuova Su Realm Royale Questa è sempre la stessa Hanno cambiato qualcosina Con Riforge Nel senso che hanno messo La forgia qua Che non c'era Hanno cambiato qualcosa Se non sbaglio A Gun Town Hanno cambiato qualcosina A Fungal Jungle Però settimana prossima Mettono la mappa nuova Purtroppo non ci gioca Molta gente Quello no Quello è Leicester purtroppo E' come dici tu Perché? Perché non ci hanno investito A livello di marketing Non hanno fatto Delle pubblicità Capito? Se facessero Delle pubblicità Alla Genshin Impact Non so se Genshin Impact Mi capitavano i video Ogni 448 Su Youtube O altri giochi Andrebbe Secondo me Quando sai che è un gioco carino Lo stanno sviluppando A me è piaciuto Mi piace da sempre Insomma giocarlo È sempre piaciuto Quindi Ogni tanto Io lo gioco off streaming Per la maggior parte del tempo Però se ogni tanto Lo porto in live Giusto per Magari farlo conoscere A qualcuno Nel mio piccolo E lì Lecci stare I pull Cavolo C'è quello Inchino Per questo che abbiamo sconfitto Un inchino Un inchino Allora si Ma Nelmo Si Nelmo vi ho Oh 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 Hey Restoring somehow ok ok un chino per lui ah no se n'è andato se n'è andato se n'è andato questo secondo me è un gioco che potrebbe farti cambiare idea ma perché è unico nel nel suo essere cioè un battle royale che non è un battle royale secondo me è proprio fighissimo a parte che ci stanno pure in modalità stanno facendo pure delle modalità diverse tipo 10 contro 10 queste cose qua realm rewards si chiama realm rewards però unico nel suo genere dai nel suo piccolo ci diverti in sacco let's go oh cavolo quello mi sta a fiappare aspettiamo che è in cooldown l'ability no si si bella giocata bella giocata si bella giocata oh siamo fuori safe aspetta che c'è sta mira guarda 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 eccolo spuga spuga urca mettiamoci qua sotto la scalinata siamo rimasti in tre ce ne stanno altri due di enemies ah boh salvo ma vediamo ma vediamo ma vediamo non tanto se sta a forgiare le robe e si è andato a prendere le cose facciamo sto gioco di prestigio non lo so eccolo oh via 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 dove è l'ultimo no non ho preso le pozioni eccolo chi è querti grazie mille per rifarlo benvenuto querti speriamo che sia un bel benvenuto let's go si è così che si vince su ram royal reforge si è così si grazie mille per aver guardato grazie mille per aver guardato